Io in qualità di sindaco sono molto preoccupato invece per il 7, per il ritorno del giorno feriale, perché con la riapertura delle scuole sul tratto urbano e soprattutto anche con il transito normale e regolare delle attività dei camion, dei mezzi pesanti per le attività commerciali, avremo sicuramente un incremento di traffico oltre a quello del controesodo. I saggi infiniti sulla statale adriatica tra Roseto e Città Sant'Angelo, a seguito del sequestro del viadotto Cerrano sulla A14 ad opera della procura di Avellino. L'8 di gennaio i tecnici valuteranno le condizioni del tratto autostradale e decideranno sul da farsi. Se il viadotto non dovesse essere dissequestrato, la questione rischia di andare per le lunghe e si dovranno attendere i lavori di manutenzione. I mezzi pesanti per il momento sono stati deviati sulla statale, con enormi disagi non solo per il traffico ma anche per la salute pubblica. Le criticità sono sia la qualità dell'aria e sicuramente i rumori che con il transito dei mezzi pesanti ormai diventa insostenibile per chi abita proprio nella fascia della statale, al ridosso della statale. Noi siamo preoccupati dunque per la salute pubblica, la stessa ARTA se non valida i nostri dati praticamente abbiamo perso tempo. Dunque siamo qui a chiedere appunto un pronto intervento, cosa che già stiamo facendo con la regione Abruzzo, proprio per attivare tutte quelle procedure che ci garantiscano dei dati oggettivi efficaci e soprattutto dei documenti alla mano da poter portare all'attenzione in questo caso alla procura di Avellino. Il sindaco Di Silvi addirittura per esercitare pressioni sugli enti pubblici di più alto grado sta vagliando l'ipotesi di emettere un'ordinanza per chiudere la statale ai tir. L'ordinanza era diciamo un'idea, un'ipotesi che diciamo è da vagliare soprattutto per il fatto che comunque chiudendo la 14 non possiamo interrompere la dorsale adriatica. Dunque la statale 16 è l'unica via di accesso per tutto il tratto adriatico e dunque sarebbe difficile l'interruzione di questo tratto per i mezzi pesanti. Però siamo convinti che con i dati oggettivi che potremmo vagliare con il monitoraggio sia dell'aria che dei rumori potremmo dare insieme all'ARTA delle risposte importanti e soprattutto prevenire l'incolumità dei nostri cittadini. Grazie